La seconda sezione civile del Tribunale di Siracusa ha disposto la sospensione provvisoria dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di sequestro giudiziario della Casa Monteforte di Via Piccherali. La Presidente Concetta Maiore ha accolto infatti il reclamo proposto dagli avvocati Corrado Giuliano e Paolo Tutto il Mondo che assistono Francesco Licini citato dal Comune di Siracusa perché a loro dire avrebbe occupato in maniera illegittima tre appartamenti del Palazzo Rosolini Borgia che la signora Maria Monteforte ha donato all'ente pubblico. La difesa ha prodotto una corposa documentazione da cui emerge fra l'altro che Licini ha acquisito la proprietà del primo piano dalla società Digi Consulting nel 2001 mentre il secondo piano con due unità immobiliari è stato acquistato dallo stesso Licini nel 2004 dalla società Fremes. Per quanto riguarda il terzo piano la difesa sostiene che si tratti di un monolocale appartenente a Licini per usucapione. Il Tribunale Civile ha quindi fissato l'udienza di merito per il 22 aprile. Un mese fa il primo cittadino aveva commentato a proposito dell'ordinanza del Tribunale che questa riconoscesse il diritto del Comune a tornare proprietario della porzione di un suo bene. Un lascito testamentario voluto dalla donante con una destinazione di alto senso sociale quale l'assistenza a donne anziane è in stato di bisogno.